Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret. Oggi è una giornata difficile perché parliamo di informatica, io quando parlo di informatica che sono del paleodittico ho delle difficoltà, però ci sarà il ragioniero Oreste Panzeri, presidente della Vixam Group di Vedugio, in provincia di Monza, che mi spiegherà tutto e io capirò qualsiasi cosa di informatica. Bene. Va bene. Bene. Allora, normalmente noi cominciamo facendo un po' di storia dell'azienda. Sì, innanzitutto buonasera. Buonasera. La Vixam è nata nel 1980 da tre soci, io ero ancora troppo piccolo per quegli anni, e si occupava di office automation, quindi tutto quello che erano allora macchine da scrivere, fotocopiatori, insomma, sulla scia di Olivetti e quindi dei concessionari Olivetti, in quell'epoca si vendevano queste macchine. E quelle erano ancora cose che io riuscivo a capire, a maneggiare. Io sono arrivato nell'84-85 come quello che adesso sarebbe uno stagista, in quei momenti era, ti metto in quell'azienda e provi a fare qualcosa, intanto seguivo i miei studi, finiti gli studi sono stato assunto e poi sono diventato primo amministratore unico nel 96 e poi presidente del gruppo. Negli ultimi anni l'azienda è cresciuta molto, oggi si occupa un po' di tutto il mondo informatico in generale, siamo 150 persone divise su 5 ragioni sociali e 5 brand sotto un unico cappello che è appunto Vixam Group. Ma quindi dalle macchine, diciamo, da scrivere, siete passati, c'è stato questo passaggio all'informatica. Sì, sì, ci siamo poi dedicati alla parte computer, poi alle infrastrutture informatiche e poi i software gestionali per aziende, dove facciamo anche aspetti consulenziali e formativi per l'azienda. Stiamo infatti per chiedere qual è il core business, cioè che cosa fate? Ma allora, la cosa che ci piace maggiormente fare è essere un po' il riferimento IT dell'azienda, quindi l'azienda quando chiama noi tendenzialmente noi cerchiamo di occuparci di tutto quello che è informatica all'interno dell'azienda nostra cliente. Negli anni abbiamo cercato di sviluppare competenze su tutti i settori informatici, sia dal punto di vista hardware che networking e che software, acquisendo strutture che già avevano all'interno delle competenze o assumendo personale che poi con la formazione è cresciuto in questi ambiti. Quindi cerchiamo di servirle un po' a 360 gradi su tutta l'esigenza e su tutte le novità che purtroppo il nostro mondo, o per fortuna nostra, continuano a uscire continuamente. Io faccio domande terra a terra proprio, così forse è anche più comprensibile. Ma le aziende che devono usare la tecnologia per forza, ma spesso non conoscono bene e quindi si affidano a voi? Sì, da poco abbiamo anche creato internamente un'academy, sia per il nostro interno, perché comunque quando assumiamo persone nuove c'è l'esigenza di fargli fare un certo percorso formativo che riguarda sia la conoscenza di prodotti ma anche la capacità di portare poi l'informazione all'azienda. E usiamo la stessa academy anche sui nostri clienti, quindi molto di quello che facciamo è aspetto consulenziale, cioè consigliamo il cliente su cosa utilizzare e come, è aspetto formativo, ormai l'informatica entra in qualsiasi settore, ma in azienda prevarica un po' in tutti i reparti aziendali, dalla produzione all'amministrazione alla parte commerciale, quindi cerchiamo di formare in modo differente le varie persone che in azienda hanno i ruoli delle varie competenze, diciamo. Sì, poi arriveremo al momento in cui le chiederò come si fa lo speed, perché sono anni che ci sto provando. Posso farlo fare da una persona, non da me. Avrei qualche difficoltà anch'io magari. No, perché certe volte vengono complicate le cose, non so perché, ma vengono ancora più complicate. Schiacci un bottone, no, metti la password. Diciamo che negli ultimi anni una delle problematiche principali è proprio gli aspetti di sicurezza. Ecco. Quindi questo, noi abbiamo appena aperto un reparto che si occupa di cyber security, proprio perché abbiamo fatto un'epoca a portare cose all'interno delle macchine, all'interno dei software e quindi a dare sempre più dati. Oggi questi dati sono molto attaccati e quindi l'esigenza di proteggerli e di gestirli in un certo modo è importante. E quindi quando vado a fare lo speed poi ho l'attivazione, la firma e il codicino da mettere. Quindi una serie di cose che servono per proteggere quello che stiamo cercando di inserire, che sono dati personali all'interno delle macchine. Perché la situazione della sicurezza è comunque continuamente da monitorare e c'è un problema. Assolutamente, sì. Noi abbiamo sonde che mettiamo all'ingresso dei dati aziendali che permettono di monitorare ciò che sta succedendo sui dati dell'azienda. Cosa esce e cosa entra? Lo monitoriamo e tramite un motore di intelligenza artificiale cerchiamo di comprendere se sta succedendo qualcosa che non è standard e quindi bloccare eventuali attacchi delle aziende. Questi sono prodotti abbastanza innovativi che da qualche anno ormai stiamo portando nelle aziende. Perché quando un'azienda poi viene attaccata e vengono presi i propri dati, l'azienda si ferma, non riesce a fare il proprio business se soprattutto si propagano i dati all'interno della rete. Mi scusi, la domanda è sempre più semplice. Ma perché viene attaccata un'azienda per portare via… I dati vengono comunque rivenduti. Rivenduti che servono per statistica, che servono anche per conoscenza di concorrenti, eccetera. C'è un ambito che è un dark web dove vengono pubblicati e venduti delle password e dei dati. Le password della sua mail, se rivenduta, potrebbero generare delle mail scritte da qualcun altro al suo posto anche per magari incassare del denaro o fare delle altre cose che potrebbero danneggiarla. Mi è già successo purtroppo questo su qualche social, mi è già successo. Sfortunatissima che non ho una lira. Comunque sì, 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 è pericolosa. Senta, immagino che non siate gli unici a fare questo lavoro. Quali sono i vostri punti di forza rispetto ai vostri competitors? Sicuramente abbiamo lavorato molto per creare una squadra di esperti del settore, quindi di collaboratori. Siete in tanti? Siamo in 150. Che innanzitutto lavorano a obiettivi e sentono molto il raggiungimento dell'obiettivo per l'azienda. Quindi è una grande famiglia, diciamo, la nostra. E quindi cerchiamo tutti di lavorare in una direzione per dare il più possibile e miglior servizio al cliente. L'altro punto di forza, secondo me, è proprio il fatto che molte aziende del nostro settore si occupano di alcune cose dell'informatica, alcuni settori. Noi cerchiamo di coprirli a 360 gradi permettendo al cliente di non avere troppe interfacce, anche poi da accordare tra di loro, ma facciamo noi poi il lavoro di mettere d'accordo i nostri settori. Ultimamente stiamo lavorando molto anche con la parte del sociale, ci piace spingere iniziative sia dal punto di vista sportivo che culturale, perché oltre a essere qualcosa di interessante e di giusto da fare, ma soprattutto ci danno anche della visibilità e ci permettono di fare ancora più squadra all'interno della nostra azienda. Sì, no, perché i computer vanno bene, tutti dipendiamo dalla tecnologia, però ogni tanto uscite, anche uscite, andate a giocare a pallone. Esatto, magari i dipendenti non a pallone, però gli facciamo fare altre cose. Senta, voi siete in Italia anche all'estero? No, solo in Italia abbiamo una sede in provincia di Monza e Brianza, una ad Arona, Piemonte, una a Reggio Emilia, una a Cremona e una a Bergamo. Copriamo tendenzialmente come mercato Lombardia, Emilia e Piemonte. Poi in realtà i nostri clienti sono poi in tutta Italia, però il 95% lo facciamo nelle tre regioni che l'ho nominato. Immagino che sia un campo in continua evoluzione questo qui, no? Assolutamente sì. Ogni giorno ci sarà una novità. Sì, assolutamente sì, noi spendiamo molto informazione delle nostre persone perché poi bisogna farle crescere, in ricerca e sviluppo perché dobbiamo studiare nuove tecnologie, nuovi software quando escono, cercarli, scegliere i migliori per poterli poi presentare ai nostri clienti e quindi sì, c'è continuamente sviluppo. Oggi forse la difficoltà per noi è trovare personale adeguato e da mettere poi sul mercato ed è un po' il freno alla crescita. Quindi spesso facciamo operazioni di M&A, quindi di acquisizione di altre strutture, proprio perché troviamo già competenze pronte e quindi la crescita è un po' più veloce. E qual è il futuro? Quali sono i progetti futuri dell'azienda? E come vede il futuro in questo settore? Sicuramente l'informatica è in crescita e quindi si sta anche concentrando sotto poche aziende, prima erano molto più diffuse, quindi il nostro futuro è sicuramente sulla crescita. Abbiamo un piano strategico fatto recentemente che ci porterà nei prossimi 3-4 anni, si è rispettato, aumentare di un altro 50% i nostri fatturati e stiamo cercando di farlo portando anche una serie di servizi ai nostri clienti dal punto di vista internet. Quindi stiamo costruendo un portale per i nostri clienti dove possano accedere, acquistare o richiedere i nostri servizi e possano anche vedere la storia del rapporto con noi. Questa è un po' l'innovazione che stiamo cercando di introdurre negli ultimi mesi. Senta, un'altra domanda, ma io sono terrorizzato dall'intelligenza artificiale. Non vorrei che un giorno ci fosse uno che sembro io, che parla come me, ma non sono io. Quindi farò dei segnali, ci mettiamo d'accordo, perché faccio segno che sono io. Può diventare un problema quello lì dell'intelligenza artificiale. Sicuramente va regolamentata, come tutte le cose tecnologiche arrivano prima della regolamentazione delle stesse. Noi stiamo studiando, ci stiamo dedicando, abbiamo fatto un paio di prodotti su intelligenza artificiale, lo utilizziamo perché all'interno di alcuni dei prodotti che rivendiamo c'è già. Stiamo formando persone. Chiaramente è una cosa abbastanza nuova un po' per tutti e quindi c'è bisogno di conoscerla meglio perché si evitino dei rischi come quelli che stavate raccontando. Comunque no, volevo dirvi che sono ancora io. Sono io. E senta, top secret ci chiamiamo perché l'ultima domanda è proprio qual è il segreto del successo dell'azienda? Ma io direi che ci siamo sempre concentrati su una crescita costante e questo ci ha permesso di stare sul mercato. La crescita va fatta continuamente, abbinata a un cambiamento continuo. Le persone da noi sanno che c'è questo aspetto nel senso che ho sempre detto che l'unica cosa che non cambierà mai in azienda è proprio il cambiamento. Perché è un po' il nostro settore ci obbliga a farlo e un po' perché secondo me quando l'azienda si rinnova, cambia, anche le persone che ci lavorano non si annoiano troppo e quindi imparano cose nuove, si sentono più a casa propria e i clienti si sentono più seguiti nell'innovazione e nel cambiamento stesso. Grazie, la ringrazio per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Buonasera, benvenuti a Top Secret, stavamo già chiacchierando con i nostri ospiti che sono Gian Maria Villa, fondatore e presidente, benvenuto, buonasera, Oscar Chemello, direttore generale, commerciale anzi, della Velox Servizi di Verona. Benvenuti, benvenuti qui a Top Secret. Allora, noi normalmente cominciamo i nostri incontri chiedendo la storia dell'azienda. Ce la vuole raccontare? Senz'altro. L'azienda, la Velox Servizi, viene fondata nel 1990. All'epoca avevo 20 anni, quindi l'ho aperta, chiaro, abbastanza giovane, diciamo. Forse il segreto è che non avevo niente da perdere perché studiavo la mattina, al pomeriggio lavoravo per rendermi autonomo, diciamo così, in un'impresa di pulizie e quindi dopo il servizio di leva ho deciso di provare questo settore qua perché un po' era un farinato, diciamo, avendoci già lavorato. No, questo è bellissimo, lo dico magari ai giovani che magari ci seguono. La mattina studiava e il pomeriggio lavorava in un'azienda di pulizie. Tanto per dire che, no? Una volta... Voglia di lavorare... Una volta era più normale, insomma, una famiglia media italiana, quindi padre impiegato, madre casalinga, doveva arrotondare per i capricci, diciamo, quindi era abbastanza comune questo tipo di atteggiamento. Poi, come dicevo, il fatto di non avere niente da perdere è stata la spinta che mi ha fatto decidere di mettermi in proprio, se così si può dire. E con l'aiuto di mia sorella che mi ha prestato i soldi, la finanza appunto, per iniziare... Finanziamento di sorella. Eh, sì, sì, quindi finanziamento in famiglia. Mi ricordo che erano 6 milioni di lire, quindi 3.000 euro. E con 3.000 euro, diciamo, ho fatto tutto, ho comprato il furgoncino, ho aperto l'azienda, i primi prodotti, ho cominciato questa attività. Ovviamente sono partito ovviamente da solo, pulivi i condomini. A pulire i condomini. Condomini, sì, che era la cosa, l'attività più semplice, più immediata che si poteva fare. E dopo da lì c'è stata una crescita nel tempo. Poi anche forse il fatto che ero giovane, avevo 20 anni, quindi ho notato che le persone, i futuri clienti, chiamiamoli così, avevano anche la voglia di aiutare un giovane. Quindi sono stato agevolato anche in questo, forse per l'età anche, ho avuto delle opportunità anche per premiare probabilmente questa voglia di fare. Quindi ho riscontrato questo nei clienti, nelle persone che mi hanno dato fiducia all'inizio dell'attività. Ebbè, sarà stato anche bravo lei a presentarsi nel modo giusto. E tra l'altro, tra l'altro, è l'azienda leader in Italia. Sì, ad oggi. Dopo 30, diciamo, negli 2025 festeggiamo i 35 anni, quindi dopo 35 anni siamo azienda leader in Italia nel settore housekeeping alberghiero. Perché nel mondo del cleaning, quello che facciamo noi sostanzialmente, pulizia e cleaning, dette in inglese, ci sono vari settori, c'è il pubblico, c'è il commerciale, l'industriale e c'è una branchia che è circa da 20 anni che è nata, che è nel settore specifico degli alberghi. Quindi rifacimento camere, sostanzialmente. Io viaggiando con le tournée in teatro, negli alberghi continuamente, l'idea di trovare il letto fatto bene, è una cosa fondamentale, importantissima. Certo, certo. Quindi c'è il letto, tutta la pulizia, la parte del bagno e tutti i servizi anche accessori che ci sono all'interno degli alberghi, quindi il facchino alla porta, il servizio anche in sala perché facciamo anche questo tipo di servizi all'interno degli hotel, quindi sbarazzo tavoli nella parte ristorativa dove generalmente c'è un albergo che ha un buffet, diciamo. e quindi questi servizi accessori vengono fatti ormai per la maggioranza, diciamo, delle strutture alberghieri italiane e non solo italiane perché è un aspetto ormai sviluppato in tutto il mondo, insomma, quindi sostanzialmente. E viene fatto appunto da imprese come le nostre, insomma. Che partendo, io sono rimasto colpito, partendo dall'acquisto grazie alla sorella del furgoncino, adesso è arrivato ad avere 2.000 dipendenti. 2.000, sì, più di 2.000, sì, in stagione siamo anche 2.500, quindi abbiamo come reparto abbiamo 250 clienti di cui 150 sono alberghi, il resto sono, come dicevo, strutture, ad esempio siamo specializzati anche nei parchi, abbiamo Gardala, Mirabilandia, l'Arena di Verona, la Fiera di Verona, insomma anche altri clienti industriali molto importanti, tra cui, ripeto, nella parte alberghiera, 150 hotel, anche di gruppi, di catene alberghiere, pertanto lavoriamo in tutta Italia, da nord a sud siamo presenti quasi capillarmente, meno al sud perché chiaramente essendo noi aziende del nord ci siamo espansi dalla nostra zona di origine, però viviamo anche in Sardegna, in Sicilia, nelle isole, insomma, ecco. Tanto lavori anche per pulire l'Arena di Verona, deve essere una robetta così da poco. Insomma, come tutti i lavori, una volta che ci prendi la mano diventano, non dico facili, ma comunque quando ti organizzi, insomma, riesci a gestire bene il tutto. Lei che l'ha fatto? Che rapporto avete con i dipendenti? Diciamo che il rapporto è cambiato perché negli anni sono cambiati i dipendenti, insomma adesso si sa che è anche notizia comune che manca il personale, c'è meno attaccamento al lavoro, meno attaccamento all'azienda, quindi c'è anche più difficoltà anche per noi nel, diciamo, reperimento della forza lavoro. Io essendo partito, facevo le pulizie, quindi il rapporto che volevo iniziare con i dipendenti era un rapporto familiare, ve li conoscevo tutti quanti perché ci lavoravo assieme. Poi chiaramente l'azienda si è sviluppata ingrandendosi, ho altri ruoli all'interno dell'azienda e quindi mi sono un po' distaccato con il rapporto diretto con i dipendenti. Diciamo che conosco ancora bene quelli storici perché ci sono dipendenti da noi, che sono con noi da 35 anni, quindi la vecchia guardia la conosciamo bene, ci frequentiamo, insomma, quindi abbiamo un ottimo rapporto. Quelli nuovi, voi per la distanza perché chiaramente essendo sviluppati in tutta Italia, quindi tante persone noi di fatto non le incrociamo, non le vediamo, però tendenzialmente essendo partiti dall'altra parte, diciamo, del muro, della barricata, sappiamo cosa vuol dire, sappiamo la fatica che si fa a lavorare, quindi abbiamo sempre cercato di avere un rapporto benevolo con i nostri collaboratori, quindi dove possiamo, li aiutiamo, cercando anche di andare incontro alle loro esigenze che sono sempre maggiori rispetto a qualche anno fa perché gli stipendi, diciamo che in Italia si sa che sono gli stipendi più bassi d'Europa, la vita costa e quindi sempre un aspetto economico che è sempre quello che a volte crea dei problemi quotidiani a tutti, quindi là dove possiamo cerchiamo di assecondare le varie richieste dei nostri collaboratori. Allora, veniamo Oscar Chemello, direttore commerciale dell'azienda. Io leggo di questo progetto in Egitto. Sì, è un progetto che era necessario per poter crescere, in quanto come accennato prima c'è un problema legato al personale, non si trova personale, con il Covid il personale che era magari nel settore alberghiero e ristorativo si è ricollocato in altri settori, quindi con la mancanza anche di mano d'opera, che per noi è proprio il nostro motore, abbiamo dovuto trovare delle soluzioni. Avendo dei contatti con alcuni collaboratori che avevano già lavorato sul territorio, si è pensato di aprire un'academy dedicata proprio al Cairo. L'academy forma in aula, fa formazione quindi in aula e anche pratica su delle strutture, sul territorio e poi chiaramente vengono, una volta finito il processo di formazione, vengono trasferiti in Italia, con tutto un processo chiaramente dedicato, presso le nostre strutture alberghieri che hanno necessità. Vengono integrati, vengono assistiti, c'è tutto un sistema dietro che gira per poter portare le persone qua a lavorare. È proprio un obiettivo dei candidati di tra l'altro venire in Italia, quindi è gente molto determinata che vuole venire qua per crearsi un futuro e quindi ha sposato pienamente il progetto con noi, il progetto di formazione nell'ambito alberghiero. Voglio collegarmi a quello che ha detto Oscar Camelo Pocanzi, che l'academy Velox Egitto è propedeutica al nostro progetto che prevede di arrivare a 100 milioni di euro di fatturato da qua al 2030, che la Velox Servizio compirà i 40 anni di attività. Come si diceva, è il motore principale, la nostra forza principale è proprio la forza lavoro, gli indipendenti che abbiamo, quindi sviluppare sui canali esteri la formazione e soprattutto il reclutamento di personale diventa fondamentale, direi indispensabile per arrivare a questo progetto, perché se non hai dipendenti, in conseguenza non puoi avere neanche i clienti, quindi è un legame a doppio filo, a doppio filo stretto, che ci permette appunto di proseguire la nostra attività per arrivare all'obiettivo del 2030 con i 100 milioni di fatturato. Abbiamo finito il tempo, perché è stato tutto molto interessante. L'ultima domanda, la top secret, qual è il segreto per cui partendo da dove è partito lei si arriva ad essere leader in Italia? Il segreto di fatto è non segreto, nel senso che cerchiamo di fare le cose come si facevano una volta, come vanno fatte, quindi facendo un'attività aziendale da vecchi tempi, quindi essere regolari con i clienti, essere affidabili, essere regolari con i dipendenti, quindi sostenere i dipendenti, perché di fatto la nostra materia prima, se così si può dire, la nostra forza lavoro è la base principale su cui noi possiamo poi erogare i nostri servizi. Quindi fare le cose alla vecchia maniera, il segreto potrebbe essere quello. E mi sembra un finale stupendo. Grazie. Grazie a lei, buonasera. Grazie a te. Salve. Buonasera, buonasera, benvenuti a top secret, come sapete ci occupiamo delle eccellenze dell'imprendoria italiana, sono brillati gli occhi delle nostre autrici quando è arrivato l'ospite di oggi, Leonardo Baglioni, amministratore delegato della Baglioni-Gioielli, che arriva da Valenza, naturalmente, da Alessandria. Ecco, parliamo di Gioielli, cari signori. Gioielli, ma perché Valenza? Perché Valenza è diventata la capitale della lavorazione? C'è un motivo particolare. Valenza ha esplosa la capacità di lavorare l'oro nei primi del Novecento. Inizialmente, prima dell'oro, a Valenza si producevano scarpe, era molto famosa nel mondo per la produzione delle scarpe. Dopodiché il mercato si è un po' trasformato e hanno iniziato ad aprire le prime aziende orafe. Questa tradizione nel tempo è cresciuta sempre di più, fino a diventare importantissima. Quella che è l'attività principale della città. Oggi a Valenza esistono numerosissime imprese, artigiane e meno artigiane, diciamo più strutturate, e tutte producono alta geleria. Valenza è uno dei tre poli in Italia importanti per questo settore qua, insieme a Vicenza di Terezzo, ma Valenza è la capitale dell'oro, dove si producono i gioielli più belli al mondo. Ma c'è un fiume dove si andavano a cercare le pepite? No, non c'è nessun fiume. Noi abbiamo il Po che ci affianca, ma non c'è niente dentro. Vogliamo raccontare un po' di storia di questa azienda, della Baglioni-Gioielli? Certo, l'azienda l'ho fondata nel 2000, dopo aver passato diversi anni come apprendista e poi mi sono formato come orafo professionista presso alcune delle migliori aziende di Valenza, dove ho avuto il piacere di realizzare dei gioielli a livello importantissimo. Nel 2000 la mia ambizione, la mia voglia di fare di più, mi ha portato a fondare l'azienda. Dopo molte difficoltà, perché sappiamo benissimo che nel 2001 ci sono state le torre gemelli, eccetera, siamo andati avanti e ho iniziato a strutturare la mia azienda. Ho capito che per andare avanti nel nostro settore avevo bisogno di formare proprio una struttura in grado di dare sempre più servizi al cliente. Quando ho iniziato, ovviamente nel mio laboratorio ero da solo, dopodiché con il tempo ho cominciato ad assumere, fino ad arrivare ad oggi, dove in azienda siamo 27. Ci picchia. Da solo ha cominciato proprio. Da solo. La nostra azienda è strutturata per dare il massimo di quello che è l'appoggio alla clientela. Noi offriamo un servizio totale. Ecco, cosa fate? Qual è il core business? Il nostro core business? Esattamente, il tema è quello. Noi realizziamo alta geleria, prodotti di classe, di altissimo livello, dall'inizio alla fine. Ci sono alcune aziende che sono strutturate solo per fare fasi della lavorazione, mentre nella mia azienda ho preferito creare una struttura in modo da poter realizzare l'oggetto dall'inizio alla fine. Quindi dal disegno a quello che è poi l'oggetto realizzato, finito, pronto per la vendita. I settori di riferimento quali sono? Qual è la vostra clientela? Non si può dire perché immagino che siano tutte persone. Ovviamente. Noi lavoriamo per grandi brand e per i quali realizziamo delle linee molto molto importanti, ma essendo un'azienda strutturata e avendo fatto il modo proprio per dare questo servizio qua, possiamo produrre anche oggetti unici per clienti magari privati che ce lo chiedono. E quindi studiare un gioiello ad hoc, il cliente può arrivare da noi con un'idea, noi la disegniamo, ne sviluppiamo una serie di disegni e il cliente lo sceglie. A quel punto inizia la realizzazione. Realizziamo l'oggetto, possiamo fare anche delle foto, delle immagini di tutta la realizzazione fino a che l'oggetto poi è finito e viene consegnato al cliente ed è un oggetto unico. Il cliente praticamente può avere per sé l'oggetto suo personalizzato su misura. Esattamente su misura, è la parola esatta questa qui. Su misura, ci picchi. No, poi le farò qualche domanda perché sono curiosissimo. Voi siete molto all'estero? Sì, noi siamo quasi totalmente all'estero. Oggi il mercato italiano offre meno possibilità di vendita, mentre l'estero dà molte più possibilità. L'esportazione è un punto forte della nostra azienda. Mi faccio indovinare i mirati arabi, queste robe qua, perché parliamo di cose meravigliose che hanno, insomma, non vogliamo parlare di soldi, però immagino, insomma, poi cerco di farle confessare qualche cifra. Senta, immagino che la concorrenza ci sia, è tanta, soprattutto a Valenza. Cosa vi differenzia dei vostri competitor? Quali sono i vostri punti di forza? Allora, i nostri punti di forza sono la capacità dei miei ragazzi. Io amo formare il personale che assumo in modo che sappiano dare un'impronta personale al gioiello che realizzano. Questo fa la differenza perché, essendo ancora un lavoro artigianale, la manualità dell'orafo che realizza l'oggetto è fondamentale. Questo, quando un oggetto è finito, ciò che l'operaio ha impresso in quell'oggetto lì lo rende particolare, diverso. E questa è una cosa che ci aiuta a difenderci, ci permette di emergere rispetto ad altre realtà. Ci sono proprio dei disegnatori, persone che, perché lei mi dice che è su misura, quindi chiunque può arrivare con una richiesta e voi la accogliete questa richiesta. Certo, la persona, chiunque può arrivare a noi con uno schizzo, con un'idea, anche solo con un'informazione. Non è necessario perché ovviamente, magari, se avessimo tutti disegnare, è bellissimo. Però può arrivare tra noi il cliente e dirci vorrei, per esempio, un gioiello fatto così. A quel punto parliamo con il disegnatore che inizia a mettere giù degli schizzi. Quando si individua la forma che il cliente vuole, si fa un disegno definitivo e da lì poi si parte con la realizzazione. Senta, so che voi avete apportato delle innovazioni molto importanti in questo settore. Sì, noi in azienda ci siamo e ci stiamo continuamente trasformando perché oggi la tecnologia è una parte importante dell'azienda. Non ci sono ancora, ma tenderanno, credo io, a sparire nel futuro i laboratori molto artigianali, dove c'è il banchetto con l'orofo che realizza. Oggi in azienda c'è la necessità di avere, per esempio, dei microscopi per delle lavorazioni di incastonatura. C'è la necessità di avere i laser per le saldature. Sono tutti macchinari che costantemente si evolvono con il tempo. Infatti io tutti gli anni inseguo, ci sono delle fiere della geleria dove ci sono anche i macchinari che vengono esposti dai costruttori in modo da essere costantemente aggiornato sulle ultime novità. Senta, e progetti futuri quali sono? I progetti futuri sono quelli che... Certo. Progetti futuri per quanto riguarda... I progetti futuri sono quelli di espansione. Abbiamo di recente acquisito un nuovo stabilimento molto più grande di quello dove siamo adesso, dove ci sposteremo appena sarà pronto. E di lì ho intenzione di creare un'azienda ancora più completa di quella che ho attualmente, perché vorrei implementare la mia azienda anche con una taglieria per le piere preziose, per esempio, che mi permetterà poi in futuro di dare ancora miglior servizio al cliente. Senta, facciamo sognare le nostre signore che ci stanno guardando. Ma voi trattate... Oro, diamanti, queste cose qua. Certo, perché... Certo, ovviamente. Sono cose che, insomma... Quindi, le pietre che arrivano da tutto il mondo... Sì, 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 arrivano... C'è un mercato, immagino, a livello mondiale per queste cose. Assolutamente sì. Le pietre preziose ci arrivano da tutto il mondo. Da tutto il mondo, esattamente, questa è la parola corretta, insomma. Ci sono gli smeraldi, per esempio, che ci possono arrivare dalla Colombia, piuttosto che lo palle di fuoco dal Messico o dal Brasile. Quindi ci sono le varie importazioni che arrivano di tutte le pietre preziose. Senta, le faccio una domanda terra a terra. Ma... Non che io abbia i mezzi. Ma potrebbe essere un investimento comprare un gioiello? Assolutamente sì. È un investimento. Tra l'altro sappiamo tutti quanti l'oro in questo ultimo periodo è andato in crescita costante. È lievitato, diciamo così. È la pietra proprio di paragone del momento economico. Esattamente. E anche lo stesso vale per il discorso dei diamanti, certificati ovviamente, e di alta qualità, sono comunque un investimento. Vabbè, ne parliamo dopo, ma purtroppo non sono in grado, ma chissà. Senta, Top Secret ci chiamiamo e Top Secret è l'ultima domanda. Cioè, qual è il segreto del successo della sua azienda? Ha cominciato da solo e questa è una bella storia. Il segreto del successo è la passione, la voglia di fare e il sentimento che si mette nel creare un gioiello. Benissimo. Senta, io avrei tante domande, ma lasciamo stare. Senta, no, perché ho una figlia che se sa che è venuto lei qua, figuriamo. La ringrazio davvero per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.